Per me le soft skills per un product manager sono molto più importanti delle hard skills, ma in realtà per il product manager è molto più vero, perché le hard skills si imparano. Allora, sulle soft skills c'è tutta una parte di soft skills che è il lavoro quotidiano di product manager. Mi riattacco per esempio a uno dei consigli che dicevo, scusami ti rubo la lista dei consigli, però dicevo il product manager non è il CEO del prodotto, che è una metafora bellissima, però data di vent'anni, diciamoci la verità. In realtà è sbagliatissimo, bisogna smettere di pensare questa cosa, perché è affascinante, potrebbe sembrare un gioco di potere molto bello il lavoro del product manager. In realtà non abbiamo alcuna autorità ed è lì che è il nervo della guerra, perché tutto quello che facciamo noi dobbiamo convincere la società a andare in un certo senso, dobbiamo convincere gli sviluppatori a seguirci, dobbiamo convincere i sales a vendere in un certo modo senza alcuna autorità. Non siamo il capo di nessuno. Se io fossi il CEO della società dove lavoro, forse quello che dico sarebbe preso diversamente, sarebbe preso, oh mon Dio, l'ha detto lui, quindi va, la seguo. Voleva detto lei, il nostro CEO è un uomo. In realtà noi lavoriamo su delle soft skills, lavoriamo sull'influenza, lavoriamo sulla capacità di spiegare la stessa cosa in venticinque modi diversi senza mai perdere la pazienza e il sorriso. Ed è esattamente queste soft skills che ci permettono di andare avanti.